Anche io ho subite molestie, anzi di più, e non ho denunciato. Ospite di Porta a Porta in onda questa sera su Rai 1, Gina Lollobrigida si unisce al coro di denunce, anche se non fa i nomi di chi le ha usato violenza. La prima volta avevo 19 anni, andavo ancora a scuola, racconta a Bruno Vespa, della seconda meglio non parlare. La rivelazione shock per l'attrice oggi novantenne arriva con la richiesta di commentare il profluvio di denunce seguite in tutto il mondo allo scoppiare dello scandalo Weinstein un commento su quello che sta accadendo. Credo che avrebbero dovuto denunciare per tempo ma non hanno avuto il coraggio, risponde in prima battuta la Lollo, che poi a sorpresa aggiunge ma neanch'io l'ho avuto. Vespa le chiede allora quante persone avrebbe potuto denunciare. 2, risponde lei, e avrebbero perso entrambe il lavoro. Uno straniero e uno italiano. Sono stati dei molestatori pesanti? Quando la molestia non è molestia ma è di più. Non la puoi eliminare, rimane dentro e condiziona il tuo carattere, le tue azioni sono sempre soggette a questo ricordo, risponde ancora l'attrice. Punto la prima volta ero innocente non conoscevo l'amore, non conoscevo niente. Quindi era grave. E la persona era molto conosciuta. Avevo 19 anni, andavo ancora a scuola. Della seconda è meglio non parlare. Non li ho denunciati per non rivelare una cosa mia. Ma erano due cose abbastanza gravi. La seconda volta ero già sposata cominciavo a fare il cinema.